Speriamo che non cucini papà. Stasera voglio fare una pazzia. Palla di fuoco, palla di fuoco, palla di fuoco! Però, carino, non c'è niente in frigo. No, è una spesa. Ragazzi, è semplice. Voi avete voglia di West. È arrivato il nuovo menù di Old Wild West. Vieni a provarlo. Vieni a provarlo.